Si può, permesso? Prego venga, si accomodi pure. Carve, io sono qui da voi perché vorrei scrivere un necrologio sul vostro giornale. Mi detti pure il testo, lo facciamo uscire nell'edizione di domani mattina. Allora, scriva Morta Guglielmina, moglie adorata... Ah, condoglianze. Grazie. Moglie adorata, indimenticabile, lascia vuoto, incolmabile, cercasi compagnia per affrontare il dolore futuro. Il dolore futuro. Sono 950 euro. Quanto? Così tanto? Ma che siete mai? Signore, è la tariffa standard. Fino a quattro parole costa 50 euro, dalla quinta parola in poi per ogni parola sono 90 euro. Allora aspetti, faccia così, cancelli tutto e riscriva. Morta Guglielmina. Poi? Basta, è morta Guglielmina. Solo due parole? Vabbè, ma moglie adorata, vuoto incolmabile... Fino a quattro parole, la cifra è sempre di 50 euro, rimane invariata, è dalla quinta in poi che paga. Allora, scriva così. Morta Guglielmina, vendo sua panda usata, pellicce, cercasi compagnia. Nove parole, 310 euro. Morta Guglielmina, vendo panda usata, cercasi badante. Sette parole. Eh no, allora scusi, scriva. Morta Guglielmina, cercasi badante, piacente e disponibile. Sono sei parole. Morta Guglielmina, cercasi badante e disponibile. Cinque parole, e ne tolga una. Cercasi badante, formosa e disponibile. Quattro parole, 50 euro. Ha giudicato. Che esce domani? Chiamano in tanti? Chiamano in tanti? Mi, mia, mia, mia... Chiamano in tanti? Ci costi? Comin rogue.